San Francesco d'Assisi. È nel dare che riceviamo. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove odio, fa' che io porti amore. Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre. Tutta l'oscurità del mondo non può spegnere la luce di una singola candela. Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita. Predicate il Vangelo, e se è proprio necessario usate anche le parole. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Riponi la tua fiducia nel Signore ed egli avrà cura di te. Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per cambiare quelle che posso, e la saggezza per riconoscerne la differenza. Questa è la nostra vocazione, curare le ferite, fasciare le fratture, richiamare gli smarriti. Non appoggiarti all'uomo, deve morire, non appoggiarti all'albero, deve seccare. Non appoggiarti al muro, deve crollare. Appoggiati a Dio, a Dio soltanto. Lui rimane sempre. Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena me diletto. Il diavolo fa grande tripudio, quando può togliere la gioia dello spirito al servo di Dio. Io voglio frate lupo che tu imprometta, che tu non nocerai mai a nessuna persona umana né animale. Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. Mio Padre Santo, Re del cielo e della terra, non allontanarti da me, perché la tribolazione è vicina. E non c'è chi mi aiuti. E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo. Agli occhi di Dio un uomo vale realmente quel che vale, e niente di più. Chi tratta male un povero fa ingiuria a Cristo, di cui quello porta la nobile divisa, e che per noi si fece povero in questo mondo. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le parole di San Francesco d'Assisi. Speriamo che queste citazioni abbiano ispirato la vostra giornata e il vostro spirito. Continuate a portare avanti il messaggio di amore, umiltà e compassione che San Francesco ci ha donato. Se avete apprezzato questo video, non dimenticate di lasciare un like, condividere con gli amici e commentare con le vostre citazioni preferite o con i vostri pensieri su San Francesco. Iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati su altri contenuti ispiratori. Vi ringraziamo ancora per essere stati con noi e vi auguriamo pace e benedizioni nella vostra vita quotidiana. A presto.